Buona serata, nuova edizione del TV giornale di Telestense, come sempre diverse le notizie di cui ci occuperemo. Parleremo di Covid ma con una dichiarazione dell'assessore regionale Donini che dice dopo l'estate valuteremo sulle vaccinazioni. Parleremo però, rimanendo sempre in ambito di sanità, anche della mancanza di personale a Cona e c'è una diatriva politica. Torneremo a occuparci di siccità ma anche di baltempo. Oggi un po' di piogge nel Ferrarese, sono previsti anche temporali nelle prossime ore ma di siccità si è parlato anche in Consiglio regionale. E poi invece un problema che riguarderà tutti, parliamo di autostrade, è stato annunciato un rincaro dell'1,5% per quello che riguarda le tariffe dei pedaggi e che quindi coinvolgeranno tutti coloro che andranno in vacanza in autostrada per i prossimi mesi. Ma a questo punto però partiamo subito da una notizia, una notizia che ha creato molto sconcerto, ovvero il presunto suicidio di Leonardo Riberti, 21enne di Ferrara, che ha perso la vita all'ospedale Maggiore di Bologna dopo un ricovero volontario in seguito ad un attacco psicotico. Il padre nutre dubbi sulla versione ufficiale fornita in seguito alla perita del figlio ed ha presentato denuncia contro i gnoti con ipotesi di omicidio colposo e abbandono di incapace. E sulla vicenda oggi è intervenuto il sindaco Alan Fabri che dice e chiede più che altro verità, chiarezza e accertamento di ogni eventuale responsabilità. Il primo cittadino ha chiamato il padre del ragazzo Davide Riberti manifestando alla famiglia il proprio cordoglio e la propria vicinanza. Come dicevamo in apertura la situazione Covid in Emilia-Romagna sembra essere sotto controllo ma sarà in autunno la prova del 9. A sostenerlo è l'assessore regionale della salute Raffaele Donini. Sentiamo. I casi di Covid hanno ripreso a crescere nelle ultime settimane e sulla vicenda interviene l'assessore regionale della salute Raffaele Donini a margine della presentazione della nuova fondazione dell'istituto ortopedico Rizzoli a Bologna. Secondo Donini al momento la situazione del Covid è sotto controllo ma la vera prova del 9 sarà in autunno. Solo a quel punto andrà valutato il target e cioè se vaccinare con la quarta dose solo le fasci più deboli o se riprendere con una vaccinazione di massa. L'assessore aggiunge che non c'è da aspettarsi un ritorno alle restrizioni dei mesi passati in quanto l'80% risulta essere asintomatico o quasi mentre l'afflusso nei reparti di terapia intensiva è molto basso attorno al 3%. Inoltre molti pazienti sono ricoverati con il Covid ma non per il Covid. Altri fattori che andranno valutati alla fine dell'estate sono capire quale sarà la variante dominante e quanto durerà ancora il livello di immunizzazione. Sulla base di queste valutazioni, conclude Donini, dipenderà il target del prossimo ciclo vaccinale. E intanto ancora due decessi e oltre 150 nuovi positivi nel ferrarese nelle ultime 24 ore. Vediamo. Due decessi e 157 nuovi positivi. È questo il bilancio del bollettino Covid nel ferrarese nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate in terapia intensiva nella nostra provincia sono due su un totale di 28 a livello regionale. E a proposito di regione, sono 4.352 i nuovi casi di positività su 23.605 tamponi, pari ad un'incidenza del 18,4%. L'età media di questi ultimi è di poco superiore ai 47 anni, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 2.016. I decessi totali in Emilia-Romagna sono 8, mentre i malati effettivi sono 42.825, di cui il 97,8% a casa con sintomi lievi o asintomatici. Per quanto riguarda i vaccini, sono 3.793.856 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 94,4%, mentre 2.920.990 si sono sottoposti anche alla terza dose. Intanto, rimanendo in ambito di sanità, sarà un'unica azienda sanitaria universitaria all'esito del percorso verso l'integrazione delle due aziende sanitarie ferraresi, l'Ausl Ferrara, azienda territoriale, e Arci Spedale Sant'Anna, azienda ospedaliero universitaria. La direttrice Ausl Ferrara, Monica Calamai, disegna la sanità del futuro, che a Ferrara avrà nell'integrazione delle due aziende una delle novità più importanti. La sentiamo. Questo percorso non può portare che un valore aggiunto a questo territorio, sia ai professionisti, sia alla popolazione. Il valore particolare è che si tratterà di un'azienda sanitaria universitaria, perché non la chiamo azienda ospedaliera universitaria, perché la definizione di per sé di ospedale non può essere esaustiva. Questa è un po' la rivoluzione. È un po' la rivoluzione, perché avremo un'azienda sanitaria universitaria, dove c'è una parte estremamente importante, che è rappresentata dalla colonna del socio sanitario e poi dalla colonna del territorio, che oggi, come si vede, lei ha citato il PNRR, ma che la fa da leone, perché noi abbiamo una popolazione anziana, e Ferrara in questo, diciamo così, rappresenta una perla, anche all'interno della nostra regione, nel senso che abbiamo la popolazione con l'indice di vicchiaia più alto, e molta cronicità non va gestita in ospedale, ma va gestita sul territorio, che sta avendo uno sviluppo importante anche per necessità, e quindi, come dire, perché si lega il territorio a un'altra parolina importante, che si chiama prossimità ed equità. In questo ci aiuta moltissimo anche lo strumento della telemedicina, che non può essere... Che però non esclude il rapporto di vicinanza, proprio di prossimità fisica, da cui il paziente ha sempre bisogno. Non esclude il rapporto di vicinanza, chiaramente è strutturata in modo tale da gestire i controlli, ma da facilitare, e appunto è proprio la vicinanza. Ma mi ha colpito tanto, l'altro giorno parlavo con un sindaco, di una delle zone, diciamo così, molto belle, ma tra le più disagiate, e parlandomi della sua mamma diceva, la cosa, lo vedo con la mia mamma, ma è anche sui cittadini che poi rischiano di non fare prevenzione, cioè di non fare controlli, è diabetica e rischia, no? Questa unione in più con gli strumenti che oggi sono finanziati e che ci ha permesso già ora di mettere in campo questa rivoluzione secolare a cui stiamo assistendo, di cui siamo un pochino protagonisti, diciamo così, non siamo ancora tutti. Ci consente di portare avanti questi principi, questo di equità che non è uguaglianza. L'equità è un'equità distributiva, quindi l'uguaglianza sta dentro il concetto di sistema sanitario nazionale, ma l'equità ci consente di avere la stessa porta di ingresso per il soggetto che vive a Goro come per quello che sta a Ferrara o a Bologna, che non è esattamente la stessa cosa e qualcosa a cui dobbiamo tendere, perché ancora non c'è fino in fondo. Intanto il problema della carenza di personale all'ospedale Sant'Anna, già lamentato la scorsa settimana dai sindacati durante un presidio a Cona, è sbarcato in Consiglio Comunale. Anche la politica quindi affronta la questione, prima con una mozione presentata dal Partito Democratico all'opposizione in Consiglio, poi con la risposta a intervento del sindaco di Ferrara, nonché presidente della conferenza sociosanitaria provinciale. E proprio nel prossimo incontro della CTSS, il primo cittadino estense dice che chiederà un punto all'ordine del giorno per fare chiarezza su questo argomento. Inaccettabile la mancanza di circa 150 operatori sanitari a Cona, dice Fabri, che aggiunge che la situazione è gravissima. Intanto invece cambiamo argomento, torniamo a un altro tema molto delicato, quello della siccità, anche se in queste ultime ore piogge temporali hanno colpito il territorio ferrarese. Si tratta comunque di fenomeni temporanei, mentre la siccità resta un grave problema a cui si sta cercando di ricorrere a soluzioni. Sentiamo. Il consorzio di bonifica Pianura di Ferrara ha emanato il secondo bollettino che fa il punto sulla situazione degli impianti, il livello del Po e la salinità delle acque. Rispetto a venerdì scorso, le situazioni più critiche appaiono migliorate e il servizio irriguo è garantito in tutto il territorio. Il miglioramento riguarda la stabilizzazione e in alcuni casi la quota dei canali, resa possibile dall'intenso lavoro e dalle manovre di regolazione idraulica che l'ente di Borgoleoni sta realizzando. Stiamo riciclando l'acqua, dichiara il presidente Stefano Calderoni, grazie a dieci pompe provvisorie che associate al funzionamento inedito o allo spegnimento di alcuni impianti sta permettendo di disperdere meno acqua in mare, reimmettendola nella rete anche quando ormai prossima al fine corsa. Il recupero straordinario di quest'acqua ci permette di mantenere quote compatibili con il servizio irriguo per l'agricoltura, limitando o addirittura annullando i disagi per gli agricoltori in gran parte del territorio. Questa condizione però è frutto di un difficile equilibrio e si tratta di una situazione limite che difficilmente potrà essere mantenuta se i livelli del POC caleranno ancora e se non vi sarà la collaborazione di tutti gli utenti. Il presidente Calderoni ha annunciato anche un provvedimento consortile per disincentivare i trasgressori. Il comitato amministrativo continua ha definito una serie di misure in base agli scenari di rischio. Chiediamo a tutti responsabilità e parsimonia nell'utilizzo della risorsa idrica ai cittadini, alle imprese, agli agricoltori. Purtroppo temiamo che il peggio non sia ancora passato e che probabilmente qualche disagio, speriamo breve e territorialmente limitato, potrà verificarsi. Ma possiamo garantire che il consorzio metterà in campo ogni risorsa e sforzo utile a superare la crisi idrica peggiore degli ultimi 70 anni e darà risposta ai bisogni dell'agricoltura, settore fondamentale e ricchezza insostituibile per questa provincia. Intanto le condizioni meteo in queste ore hanno portato a piogge temporali nel Ferrarese, fenomeni che potrebbero proseguire a macchie di leopardo fino al pomeriggio di mercoledì, quando tornerà pressoché ovunque il bel tempo con temperature in crescita nel fine settimana. E quindi insomma il problema di siccità rimane, se ne è parlato anche oggi in Consiglio regionale, sentiamo allora le dichiarazioni di Marco Fabri, consigliere del PD, Matteo Rancan, consigliere della Lega e dell'assessore all'ambiente Irene Priolo. Con questa risoluzione abbiamo chiesto un impegno sia in termini di investimenti, inteso come quegli interventi, quelle opere che sono in qualche modo già state preventivate, avviate, ma che necessitano di essere sburocratizzate, in un qualche modo, sia in relazione ai 200 miliardi di euro sul PNRR, ma anche affinché il tema dell'acqua diventi un tema centrale a livello nazionale. Non soltanto questo, ma anche di valutare la realizzazione di nuovi invasi, ma soprattutto interventi puntuali sulla razionalizzazione dell'acqua, perché sappiamo che le perdite sono molto cospicue. Infine, il tema delle buone prassi, a partire dalla quotidianità di tutti noi, perché in primis noi cittadini dobbiamo, partendo dalle scuole, dai ragazzi, dai più giovani, però dobbiamo utilizzare dei buoni esempi che non possono essere solo degli slogan, degli spot, ma si devono tradurre in fatti concreti della nostra quotidianità. Oggi serve uscire dall'ideologia. Abbiamo presentato una risoluzione, un ordine del giorno, per chiedere cose chiare per i nostri agricoltori, per i nostri cittadini e per i nostri, anche tutti quelli che sono i produttori, per la trasformazione, per esempio, del pomodoro. Servono dighe e invasi e un ricalcolo del flusso minimo vitale. Soprattutto sulle dighe e gli invasi servono potenzialità per raccogliere acqua quando, diciamo, ce lo cade dal cielo. Questo è quello che serve, raccogliere per non rimanere più senza in queste situazioni di emergenza per la siccità. Ma intanto noi stiamo finendo tutto il percorso per chiedere domani, con la sottoscrizione del Presidente, la dichiarazione di emergenza nazionale, quella regionale è già stata emessa, per cui abbiamo messo insieme tutti quelli che sono gli elementi necessari per affrontare lo stato di emergenza, tra cui la possibilità, diciamo, di fare interventi urgenti per l'approvvigionamento idropotabile. Tra questi c'è l'installazione di pompe idrovere, c'è la possibilità di fare dei posti in alvio e c'è anche la disponibilità di mettere delle autobotti per l'approvvigionamento per i cittadini, questo soprattutto nell'Appennino parmense. Dopodiché stiamo chiedendo anche la possibilità di fare interventi, si chiamano del rischio residuo, quindi interventi più strutturali che però ci possono evitare crisi come quella che stiamo avendo perché il nostro malato speciale in questo momento è il Po e noi abbiamo il problema dell'approvvigionamento con il canale Emiliano Romagnolo, per cui stiamo chiedendo anche 20 milioni di euro di investimento e complessivamente una dichiarazione di emergenza da 32 milioni di euro. Ovviamente su questo tema torneremo anche nei prossimi giorni, ma adesso invece passiamo alla cronaca. Lei prometteva rapporti intimi a cifre irrisorie ai passanti che uscivano dalla stazione dei treni, lui poi interveniva rapinando il malcapitato che nel frattempo si era appartato con la donna. Arrestata la coppia accusata dai carabinieri di aver messo a segno diverse rapine l'anno scorso, tra maggio e agosto. Lui, 32enne, noto agli uffici di polizia, lei 39enne, entrambi di origine nigeriana e in Italia, senza fissa dimora, secondo i militari, erano assidui frequentatori del GAD. Le vittime, tutti uomini di diverse nazionalità e di età compresa dai 50 agli 80 anni, risultano tutti residenti nella provincia. In un paio di casi, due uomini hanno subito lievi lesioni. In un caso la donna avrebbe morso l'accompagnatore, mentre in un altro gli avrebbe spruzzato dello spray urticante in viso. Ora i due presunti rapinatori si trovano in carcere. Adesso invece parliamo di un altro problema, chiamiamolo così, perché aumenta il costo dei pedaggi autostradali da fine mese. Il perché lo sentiamo in questo servizio. Autostrade per l'Italia ha comunicato che da fine giugno potrebbe scattare un aumento dei pedaggi dell'1,5%. Un ritocco, spiegano in una nota, che avviene dopo 4 anni di blocco e che non sarebbe legato al caro energie e materiali. La società spiega che è un incremento risibile legato all'approvazione del piano economico-finanziario, sebbene i prezzi di energie e materie prime ricadono sui diversi cantieri che Autostrade per l'Italia ha in giro per il paese. I maggiori costi andranno conseguentemente a ricadere in un periodo, qual è quello delle vacanze estive, dove molti italiani si metteranno in viaggio e dovranno vedersela anche con il prezzo dei carburanti sempre più alle stelle. I consumatori di asso utenti hanno annunciato un ricorso al Tar del Lazio. E adesso invece parliamo di un altro tema assolutamente delicato, perché c'è Paola Castagnotto, presidente del Centro Donna Giustizia, che interviene sulla decisione della Corte Suprema Americana in merito all'interruzione volontaria di gravidanza. Tra pochi giorni compio 68 anni, scrivi una lettera inviata alle redazioni e non avrei mai creduto di vedere un ritorno di imbarbarbarimento dei diritti civili come quello segnato dalla decisione della Corte Suprema Americana. Imbarbarimento e crudeltà perché significa ignorare quante donne metteranno la loro vita a rischio per affermare un principio ideologico alla vita che poco c'entra con la vita reale delle persone. Paola Castagnotto dichiara di essere confortata nel sapere che in Italia la legge 194 è costituzionalmente tutelata, ma si mostra preoccupata che si affermi una cultura di svuotamento della sua praticabilità, come è già successo che il non governo dell'obiezione di coscienza e la riduzione spesso dei consultori a meri ambulatori. Bisogna scegliere di praticare i diritti e non solo di affermarli perché cambiano la vita delle persone e cambiano la cultura di un paese. E ricordiamo che la lettera integrale è disponibile sul sito telestense.it. Adesso invece cambiamo argomento riqualificare gli alberghi dell'Emilia Romagna per rendere più attrattivo il territorio e l'intenzione della regione che ha stanziato fondi. Sentiamo. Alberghi moderni, confortevoli, funzionali ma soprattutto sostenibili in grado di concorrere alla lotta al cambiamento climatico utilizzando la tecnologia per ridurre il consumo energetico e attivare processi di economia circolare. Ammontano 300 milioni di euro a disposizione delle imprese, 150 milioni dalle banche, 150 in Mutu eBay, Banche Europee degli Investimenti per le piccole e medie imprese e per quelle fino a 3.000 dipendenti che potranno accedere ai finanziamenti con ammortamento fino a 15 anni per importi da 400.000 a 5 milioni di euro. E la Giunta regionale proprio per sostenere gli albergatori riporta un comunicato ha deciso di associare tramite bando contributi in conto interesse investendo 4 milioni di euro nel triennio 2022-2024. Fondi che serviranno ad aiutare le imprese a realizzare i propri progetti con contributi fino al 90% per un tetto massimo di 200.000 euro di investimento riservato a quelli che puntano a centrare gli obiettivi della transizione ecologica. Il provvedimento pronto a partire è stato illustrato a Bologna dall'assessore regionale al turismo e commercio Andrea Corsini nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato i presidenti di Federalberghi Alessandro Giorgetti e Assotel Fabrizio Albertini. Un'operazione di carattere finanziario e di carattere industriale che mettiamo in campo in un momento in cui il turismo riparte con grandi numeri e grandi speranze per sostenere un ulteriore processo di riqualificazione in chiave ambientale delle strutture ricettive perché daremo una premialità importante a chi metterà in campo progetti di risparmio energetico e di economia circolare. Se le cose andranno bene abbiamo già un impegno da parte della BEI di poter proseguire ulteriormente in questa linea di finanziamento. I contributi vanno da un minimo di 400.000 a un massimo di 5 milioni e quindi vedremo le domande che le strutture alberghiere faranno però contiamo di avere un numero importante di imprese ricettive che si uniscono a quelle che hanno già riqualificato con i precedenti fondi della regione. Non sarà neanche l'unico strumento che metteremo in campo in questi tre anni perché con i fondi strutturali dell'Unione Europea faremo nuovi bandi a partire da ottobre. E adesso un appuntamento prende il via giovedì 30 giugno al Caffè Bacchelli l'iniziativa Jazz for Stroke quattro serate di musica e divertimento per accogliere fondi a favore dell'Associazione Alice. Sentiamo i dettagli della prima serata dal Presidente Claudio Mari. Giovedì 30 giugno alle ore 21 facciamo un incontro presso il Caffè Bacchelli vicino alla piscina. Un incontro particolare noi come associazione per la lotta l'ictus celebrale vogliamo sensibilizzare le persone all'ictus senza disturbarle più di tanto ma facendo momenti importanti e interessanti. Uno di questi momenti è proprio giovedì 30 in cui ci saranno tre musicisti ferraresi anzi quattro quali Massimo Mantovani al pianoforte Stefano Peretto alla batteria Bessi Boni alla voce e che vede in questa occasione la presenza di un sax meraviglioso quale Stefano Melloni faremo una musica molto molto bella molto semplice e di classe una cosa così staremo un po' insieme alle persone per passare una serata bene al fresco al fresco di una location veramente fantastica perché chi conosce il posto sa che è molto bello e intanto ascoltando un po' di musica daremo qualche locandina stiamo cercando di sensibilizzare all'ictus che ribadisco è la terza causa di morte e la prima causa di invalidità permanente e siamo in chiusura vi ricordo come sempre gli appuntamenti della serata in particolare questa sera alle 22 torna il processo al Gran Premio quindi appuntamento dedicato a Formula 1 ma anche al MotoGP e tutto quello che riguarda il mondo dei motori dalle 22 quindi come sempre su Telestense vi segnalo anche Telestense.it e i nostri canali social ci trovate come sempre su Facebook Twitter Youtube e Instagram grazie dunque per averci seguito a tutti l'augurio della buona serata Grazie a tutti